E' Virdis sulla destra, si fa largo molto bene Virdis. Wilkins è ancora a Evani, è in splendida elevazione, vedete il cross di Evani, è in splendida elevazione, Virdis che anticipa anche un Virdis, Virdis, da rimessi in gioco di Evani, Virdis, calcio di punizione per il Milan, di Basil Boli, Virdis, 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 colpo di tacco, ma c'è una deviazione perché l'arbitro ha fischiato il calcio d'angolo, vedete il colpo di tacco di Virdis, e Wilkins tira, ma è Janas, è Janas, il libero, il cross di Wilkins, il colpo di testa di Virdis, e il Milan è in vantaggio, bello il colpo di testa di Virdis, alla mezz'ora esatta, 1-0 per il Milan. Il cross di Wilkins, teso, dipinto proprio, e Virdis che colpisce, il portiere lascia rimbalzare la palla, cerca poi di raggiungere, ma questa gli sfugge sul palo, e termina. Palla ancora alta in area, colpo di testa di Hutley per Virdis, Evani per Hutley, appoggio per Virdis, cerca spazio Virdis, lo trova. Fiar e causa questo calcio di punizione a 10 minuti dalla fine del primo tempo, in favore dei francesi. Janas sul pallone. Virdis. Bello il lancio per Tassotti. Ecco adesso lo scatto di Virdis, usufruisce di un rimpallo favorevole. Aveva intuito che Fiar non poteva raggiungere la palla, cross di Virdis e parata, proprio sul filo del Milan. Virdis, palo, ancora Virdis e calcio d'angolo. Palo di Virdis e poi in... Ecco, rivediamo il palo di Virdis e poi in scivolata, Barré riesce ad evitare l'altro di le successive... Ed è il terzo gol di Hutley. 3 a 0. Per il Milan. Guardate l'ottimo intervento di testa di Virdis. Il pochiere interviene ma non riesce a fermare. Intanto ritorniamo ad immagini in diretta e vediamo l'ammunizione. 3 a 0, quindi il Milan ha un margine... Ora di vantaggio, ma attenzione che il pericolo non è termine. Wilkins. A Virdis. Il lancio sulla destra per Riccardi.